ed eccoci qui buongiorno buongiorno a tutti ciao cerchio ciao marco ciao come va come stai buongiorno buongiorno eccoci qui eccoci qui buongiorno a tutti benvenuti alla seconda live sulla storia del videogioco come potete leggere dal dal titolo la nella live di oggi andremo a parlare della prima generazione videoludica dalla musica che potete sentire sottofondo e quella che avete potuto sentire in pre live stiamo parlando storicamente degli anni 70 anni 70 e cercheremo di andare a coprire quella che è la prima appunto generazione videoludica con partendo da pong se riusciamo iniziamo anche a parlare del dell'atari 2600 che meriterebbe diciamo una live a parte ma vediamo vediamo come come va diciamo allora da cosa partire da cosa partire gli anni 70 gli anni 70 sono un periodo storico abbastanza peculiare e particolare siamo nel pieno della guerra fredda è appena passata la space race e siamo poi diciamo in quelli che sono gli anni un po più pesanti dal punto di vista del della della guerra fredda nasce il movimento hippie soprattutto seguito da quella che è stata la 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 tra virgolette la la guerra e quella che è stata effettivamente un conflitto sanguinoso sia per il viettram sia per gli americani che sono intervenuti c'è stata la crisi di cuba l'assassinio di kennedy diverse diverse cose ed è negli anni 70 che si avrà verso la fine degli anni 70 quella che viene definita l'età dell'oro dei videogiochi ma precedentemente parleremo di quella che a molti piace definire l'età del legno dei videogiochi e capirete poi per presto il perché noi ci siamo lasciati parlando velocemente degli anni 40 50 e 60 con tentativi di creazione di videogiochi all'interno delle università con diciamo annessi connessi e relative difficoltà vuoi per la tecnologia del tempo vuoi per comunque l'impossibilità da parte delle università e anche poi dei produttori di elettronica del tempo di riuscire a creare un sistema che fosse sia fruibile sia non eccessivamente dispendioso ci si riuscirà negli anni nel 62 con come abbiamo detto nella live di sabato con space war sul deck PDP1 e poi con successivamente space travel su cui poi venne scritto addirittura per realizzare space travel venne scritto addirittura un codice che è l'UNIX su cui poi si nasceranno poi i linguaggi linux e così via gli anni 70 appunto sono gli anni della chiave di svolta la chiave di svolta perché la miniaturizzazione la micro elettronica sta prendendo sempre più piede grazie anche a quelle che sono state le scoperte e gli sviluppi tecnologici portati dalla NASA perché si sfrutterà appunto queste conoscenze avendo speso un boato in termini economici e abbasso leggermente il volume perché ho paura del copyright che mi vada a fottere tutto lo dico senza mezzi termini e quindi questo che riuscirà a portare poi alla nascita della prima generazione videoludica sulla prima generazione videoludica vi premetto già che ci sarà non molto di cui parlare principalmente si andremo a parlare di Pong e del Magnavox Odyssey prima di questo dobbiamo parlare del primo videogioco arcade perché Pong non è stato il primo videogioco arcade nella Università di Stanford che fino ad ora non si era fatta tanto notare rispetto alle altre università per lo sviluppo di videogiochi ed altro realizza Galaxy Game Galaxy Game è un gioco basato su Space War quindi hanno preso l'idea di Space War che era presente sul PDP-1 e lo hanno riportato su un esemplare di PDP quindi torna sempre in mezzo alla DEC che a quell'epoca era diciamo una delle principali aziende di sviluppo di computer il PDP-11-20 che è un PC unico nel suo genere e svilupparono questo titolo appunto Galaxy Games questo PDP-11-20 che funzionava con l'inserimento di una monetina e già questa funzionalità dà il guizzo sul fatto che sia il primo videogioco arcade nella storia a livello di gameplay è uguale a Space War quindi ci sono due navicelle che devono spararsi tra di loro all'interno di una costellazione con una stella centrale che funge da fulcro di gravità era in grafica vettoriale per giocare si pagavano 10 centesimi e fu poi prodotto su larga scala e fu messo in diciamo in in produzione diciamo e distribuito nel 1971 e sopravvivrà fino al 1979 anno in cui verrà smantellato e recentemente recentemente nel 97 è stato restaurato ed è adesso possibile visitarlo al Computer History Museum di Mountain View California che vi ho citato già già precedentemente ora vi faccio vedere un'immagine di questo di questo bellissimo cabinato ecco qui eccolo qua ve lo faccio vedere molto carino eh molto molto carino questo quindi come potete vedere questo è il sistema come vi dicevo ha due giocatori questi sono due computer lo slot per la monetina e il pulsante d'azione era sopra la la levetta analogica ora passiamo all'evento cardine che abbiamo avuto nel 72 perché il 71 ok io adesso proprio vado a togliere la musica perché questo è un evento cruciale nel 72 abbiamo la prima generazione videoludica perché il 72 nel maggio del 72 verrà distribuita sul mercato la prima console il magnavox odyssey il magnavox odyssey quindi è la prima console mai sviluppata come vi dicevo è stata introdotta nel mercato sul mercato nel 72 tutto il processo che ha portato alla nascita del magnavox odyssey lo potete recuperare dello streaming della scorsa settimana uscita nel 72 negli stati uniti tre anni più due anni più tardi in europa quindi nel 74 e poi nel 75 quindi addirittura un anno dopo ciao marco bentornato un anno dopo disponibile anche in giappone il magnavox il magnavox odyssey aveva un costo di 100 dollari al momento della dell'uscita e era un 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 videogioco a cartucce funzionava come quelli che vi ho spiegato quello che vi spiegai nella live precedente a questa quindi come il cathode ray il cathode ray tube amusement system quindi il il magnavox odyssey non aveva una memoria rom o proprio una memoria fisica era un un sistema un circuito elettronico in cui l'inserimento delle cartucce andava a attivare o disattivare determinati pin per dare un input particolare al pixel o i pixel che si vedevano su su schermo i giochi erano numerati da uno a sei quindi erano sei titoli e questi giochi per essere poi diciamo sfruttati venivano venivano accompagnati il magnavox odyssey veniva accompagnato quindi con tutto il suo parco titolo e poi c'erano dei diciamo dei bordini di fatto di plastica molto molto leggera che veniva applicato sul tubo catodico e faceva poi da sfondo al gioco i giochi erano molto semplici c'era la roulette c'era il il gioco dell'oca c'era il il gioco degli stati quindi tu diciamo che il magnavox odyssey era uno strumento che fruiva poi di diverse strumenti per poter essere utilizzato appieno adesso vi recupero un paio di immagini del del magnavox e di quello di ciò che lo accompagnava così per darci una un'idea allora vediamo se trovo qualcosa magnavox odyssey immagini qualcosa per rendere l'idea ecco perfetto allora cominciamo da questa qui allora ecco qua e questa qua così vi do l'idea proporrei anche un qualcosa ecco che ci faccio vedere anche i suoi accessori ok allora vediamo se faccio così ovviamente non fa vedere un cazzo perché qua devo cambiare ogni volta il nome eccolo qua questo qui era il magnavox odysse come potete vedere aveva un design molto particolare fermo restando che comunque tutto quello che vedete qua è plastica perché il circuito eltronico all'interno non era abbastanza piccolo questo che vedete sulla sulla sinistra è il controller che ecco qui aveva una levetta per il movimento orizzontale la levetta per il movimento verticale del pixel e poi c'era il pulsantone del del reset anche se qua è molto piccolo questo è uno di quei pannelli che si applicava sullo schermo questo era per appunto il non era il gioco del pong ma praticamente entrambi i controller andavano a gestire il movimento del pixel e quindi diciamo stava anche alla correttezza dei giocatori il mantenere utilizzare diciamo le proprie levette quando la pallina era sul proprio lato del campo e questi invece poi sono un po' gli accessori quindi potete vedere per fare le scommesse sul per la roulette i punteggi per quanto concerne il gioco dell'hockey il gioco del tennis e così via quindi il Magnavox Odyssey era un pioniere diciamo del di questa generazione videoludica anzi se mi date un secondo io vi vado a recuperare un libro così vi faccio vedere com'era fatto all'interno il Magnavox datemi solo un secondo ok rieccoci qui il libro è il the game console che vi ho presentato nella nella live di due settimane fa nella live zero di presentazione del progetto e potete recuperare sia qui sia sul sul canale youtube ecco qua questo vediamo se riesco a far vedere ecco qui gli accessori del del Magnavox e poi ecco qua questo era lo schema circuitale dell'Odyssey quindi come vedete la scheda andava poi su questa parte qui andava ad attivare o disattivare determinati determinati pin ecco qui ecco infatti come dice anche nel testo le cartucce che erano incluse nell'Odyssey non contenevano alcun dato di gioco ma semplicemente ricablamano la console per i diversi giochi che erano stati diciamo pensati come vi dicevo non ha né processore né RAM e venderà circa 330.000 copie ci saranno poi 330.000 esemplari di di Odyssey in giro per in giro per il per il globo ora dicevo del 1972 oltre alla uscita dell'Odyssey dobbiamo segnalare la nascita di un grande azienda che segnerà la storia dei videogiochi e segnerà il suo monopolio tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sto parlando della Atari la Atari nasce da Bushnell che è di cui abbiamo parlato per il videogioco computer space Bushnell vuole insistere nel videogioco vuole essere indipendente nello sviluppare videogiochi vede nel videogioco un business oltre che una voglio fare una prova ragazzi scusate no 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 non va bene devo trovare un modo io devo trovare un modo per migliorare l'illuminazione per queste per queste live perché se no qui è un macello io non riesco a trovare un modo per far sì che questa luce non ci siamo riusciti ce l'abbiamo fatta Bushnell vede nel videogioco un potenziale business già negli anni 70 capisce intuisce che le tecnologie sono mature per poter sviluppare qualcosa a questo livello e quindi decide che deve andare in proprio riesce a raccogliere dei fondi e nasce la Atari e Atari come primo videogioco nel 29 novembre del 1972 l'Atari sviluppa e rende fruibile sul mercato questo titolo signori e signori il 29 novembre del 1972 nasce Pong un gioco come avete potuto vedere dalla semplicità disarmante ma che rappresenterà un punto di svolta fondamentale per l'industria del videogioco Pong nella versione della Atari che sarà un cabinato per i bar vendette nell'anno d'uscita 19.000 cabinati 19.000 cabinati sono un numero abnorme se si pensa a tutto quello che succederà dopo questo è l'evento che per molti studiosi della storia del media è l'inizio dell'età del loro per quanto io sono dell'idea più diciamo della scuola che definisce l'età dell'oro con l'inizio della seconda generazione videolubica Pong ispirerà tantissimo hardware casalingo che verrà creato appositamente per Pong quelle che vengono definite le Pong console le Pong console sono appunto dei delle console con all'interno Pong delle sue sottoversioni e ne usciranno di ogni ogni azienda creerà la propria Pong console ogni azienda farà le sue modifiche ci sono Pong console che avranno quattro versioni il singolo il doppio una simulazione dell'Oke mettendo le barriere l'anti l'anti Pong tutte quante diverse lezioni pensate che Nintendo stessa nella sua transizione in questi anni da azienda sviluppatrice di giochi di carte diventerà un'azienda più votata alla tecnologia all'ambito videoludico anche inizierà a sviluppare le sue Pong console svilupperà due Pong console la TV8 e la TV32 che purtroppo non arriveranno mai in Italia ma soltanto giustamente sul mercato giapponese tutta questa pluralità di Pong ha fatto proprio arrivare alla gente il concetto che il videogioco esiste il videogioco è un qualcosa che può entrare nella casa degli americani e delle persone in generale nel mondo nel mondo occidentale e sarà il seme che verrà piantato e che poi darà i suoi frutti come vedremo più avanti con la seconda generazione videoludica quindi il Commodore gli arcade che vedremo nascere e l'Atari 2600 su cui faremo poi un breve focus già durante questa live tenetevi forte abbiamo ancora un'oretta e oggi si giocherà anche a qualcosina passiamo avanti di 4 anni perché negli anni dal 72 al 76 non succederà molto se non appunto la la distribuzione dei sistemi dei sistemi Pong nel 76 avremo la prima controversia videoludica cosa vuol dire la prima controversia videoludica si inizia a sviluppare inizia a nascere il concetto di arcade si inizia a tentare di sviluppare qualcosa che sia più di un semplice gioco di tennis di un semplice Pong insomma perché Pong comunque sono due barrette con un pixel che fa la pallina nel 76 un'azienda vediamo se riesco a farvelo vedere perché questo qui è poco conosciuto quindi trovare un'immagine è complicato ma io l'ho trovata che culo l'ho ritrovata questa immagine l'avevo persa di vista adesso ve la faccio vedere facciamo così facciamo così ok viene sviluppato dalla dalla Exidy la Exidy è un'azienda che sarà nota per sviluppo di videogiochi arcade su tinte splatter horror quindi tornerà spesso nelle nostre elucubrazioni nel 76 sviluppa il seguente arcade questo arcade si chiama come potete vedere Death Race già l'arcade stesso è abbastanza inquietante due teschi che due scheletri che guidano delle automobili sembra all'interno di un cimitero come potete vedere anche in questo caso oltre a queste comunque temi molto diciamo legati alla morte e ai cimiteri il gioco comunque era abbastanza semplice c'è un volante c'è una leva per andare avanti e indietro e c'è il pulsante di start qual era l'obiettivo di Death Race l'obiettivo di Death Race era quello di avere questa macchinina che si muove sull'asse verticale quindi il gioco andava a scorrimento e l'obiettivo nel fare punti era quello di investire quante più persone possibili questo è un qualcosa che poi ritornerà come concetto in futuro con la famosa serie di videogiochi rinomata negli anni 90 di Carmageddon ma questo videogioco scatenò il primo furioso dibattito sulla violenza all'interno dei videogiochi diciamo che poi la contro difesa dell'azienda fu che non si investivano dei pedoni ma si investivano dei gremlins che quindi era tutto frutto della fantasia in ogni caso la grafica del tempo diciamo non è che permettesse di andare a dare una distinzione di questo tipo questi sono gli eventi principali legati alla prima generazione videoludica quindi come vi dicevo la prima generazione videoludica abbiamo il Magnavox Odyssey e abbiamo il Pong vi voglio far vedere giusto un altro paio di console che sono uscite in in quegli anni ecco allora ci tengo a dirvi che ecco qua questa è una informazione importante come Pong console sono uscite circa più circa 300 modelli ma il numero tende a salire piuttosto che a scendere rispetto a questo a questo numero quindi veramente un altissimo numero di Pong console ovviamente come potete immaginare il fatto che fossero stati sviluppati e distribuiti su un mercato 300 diverse tipologie di Pong console porterà inevitabilmente alla la la morte di questo di questo mercato poi negli anni successivi al al 77 e si passa alla seconda generazione videoludica la seconda generazione videoludica noi parleremo principalmente dell'Atari 2600 faremo un un focus su quelle che sono un altro paio di di console che hanno rappresentato molto l'epoca ma sono stati poi dei player minori i player principali della seconda generazione videoludica sono stati l'Atari 2600 il Commodore 64 e poi parleremo velocemente della Intellivision e ColicoVision che sono due console molto simili e del Vectrex il Vectrex che è una console a grafica vettoriale ma di questo ne parleremo diciamo magari nella prossima live che sarà poi di introduzione a quello che è la terza generazione videoludica dove ci soffermeremo molto perché la terza generazione videoludica è quella successiva al crash del mercato videoludico dell'83 con poi l'introduzione dei player giapponesi player intendo di aziende giapponesi all'interno dell'industria e quindi con l'introduzione del Nintendo Entertainment System del Master System e poi diciamo la controrisposta americana che sarà la Atari 5200 e 7800 che però poco potranno contro questi due colossi e su quelli faremo poi delle live dedicate molto molto approfondite allora prima di parlare della Atari 2600 è giusto che ci andiamo a vedere vi faccio vedere una cosa molto molto carina ora devo trovare quella giusta vediamo un po' se la trovo la ci sta una pubblicità che volevo farvi vedere vediamo se la trovo perché mi piaceva molto eccola qui perfetto adesso ve la faccio vedere la Allora, noi dovremmo fare proprio un'analisi pixel, cioè frame per frame di questa, di questa, di questo commercial, perché di questa pubblicità, perché è incredibile, è incredibile. Questo personaggio che arriva e dice, io voglio un Atari 2600 con tutto quello allegato, e iniziano a uscire robe su robe, altre tipologie di controller, giochi, giochi educational, moduli per la connettività, bordello di roba. E poi ci dovrebbe essere anche, però quello non lo ricordo, dico di chi fosse. Ah, voglio farvi vedere giusto una cosa del Magnavox, perché me lo sono ricordato adesso, di una pubblicità del Magnavox incredibile, che vi voglio far vedere. Poi torniamo sull'Atari. Questo qui è una pubblicità dell'Odyssey 2, che è uno dei player minori, diciamo, all'interno della seconda generazione videoludica. Ci tenevo a farvelo vedere, semplicemente perché c'è Leonardo Nimoy, che... Non si può, diciamo, non far vedere un commercial con la voce di Leonardo Nimoy, insomma. Allora, parliamo dell'Atari 2600. L'Atari 2600 è console leggendaria, per non dire altro. Una console con un concept così semplice, eppure così incredibilmente efficace. Una console sviluppata principalmente in legno, tocca dirlo. E come potete vedere, ha delle peculiarità abbastanza specifiche. Allora, soffermiamoci sulla console in sé. Quindi, questa qui è l'Atari 2600. Questa qui è l'Atari 2600 con la versione a 4 pulsanti. C'è anche una versione a 7 pulsanti. Il controller è un controller molto semplice. È una levetta analogica con un pulsante d'azione. Tutto il resto si andava a definire sulla console. Quindi abbiamo, banalmente, facciamo uno zoom, il pulsante dell'accensione. Lo switch per la tipologia di televisione, sia a colori o in bianco o in nero. Lo slot per le cartucce. Il game select, quindi il selettore di videogiochi, nel caso di una cassetta con... Questo game select, sulle prime versioni, era definito il difficulty e il pulsante del reset. Quindi, una console abbastanza semplice, diciamo, nella sua interezza. E poi, vi faccio vedere quello che, invece, sarà la versione che arriverà in Italia di Atari 2600. Che questo verrà chiamato il Video Computer System. Quindi, Atari VCS verrà chiamato in Italia. Che, come vedete, ha un design molto più carino. E poi qua ci sono le informazioni. Quindi, qua, il canale di... per vederlo sulla televisione era il canale 2.3. C'è, qui, un selettore della difficoltà, poi, come dicevo, A e B. Il power. Qua c'è il pulsante di select e start direttamente sulla console. Il pulsante di reset. Tipologia di televisore. E il pulsante d'accensione della console. L'Atari 2600 porta con sé una incredibile marea di hardware sviluppato. Parliamo, in primis, nella sua vita, di quante unità ha venduto. Parliamo di una console che ha venduto 30 milioni di unità. Quindi, boato. Proprio incredibile boato di hardware venduto. E' una delle console più longeve di tutti i tempi, poiché dal 11 settembre del 1977 fu dismesso nel 1992. Quindi stiamo parlando di circa 15 anni di console. Che non sono affatto pochi. Usciranno circa 550 giochi su Atari 2600. Cosa ha portato al successo dell'Atari 2600? Fin da subito. Veramente quasi fin da subito. Sicuramente il fatto che Atari avesse già portato la... con Pong avesse già creato una certa fidelizzazione con l'agente. Quindi aveva già creato un binomio Atari con qualità. Che è sicuramente un elemento fondamentale. Il gioco... La console costerà all'uscita 199 dollari. Quindi quasi il doppio rispetto a quello che era il Magnavox Odyssey circa 5 anni prima. Uscirà con 8 titoli. Allora, all'interno dell'Atari veniva venduto insieme il gioco Combat. Oltre che a due joystick e due pedal. Cioè l'ha un rotativo per giocare al Pong o a giochi simili. E il gioco Combat. Il gioco Combat è un gioco multigiocatore dove ci si affronta uno contro uno con dei carri armati. Gli altri 8 titoli si chiameranno Airsea Battle, il Blackjack, Basic Math, Indy 500, Street Racer, Starship, Surround e Video Olympics. Quindi c'erano 9 titoli all'uscita dell'Atari 2600. Quando l'Atari 2600 uscì, iniziò a vendere bene. Quello che lo fece esplodere fu poi che avverrà in parallelo la maggiore espansione e crescita in termini di popolarità delle sale arcade. Perché inizieranno a uscire dei titoli in sale arcade che andranno a disintegrare, a portare la gente a spendere quarti di dollaro su quarti di dollaro. e soprattutto il titolo che più di tutti farà esplodere il mondo con il suo titolo che veramente sarà la chiave di volta per tutto, la seconda chiave di volta per tutto quello che succederà negli anni a venire, è questo gioco qui. Lo vedete in piccolo, ma è lui. È proprio lui. Space Invaders della Taito. Space Invaders della Taito sarà un gioco che avrà un fortissimo successo nelle sale arcade, proprio perché è un titolo che sarà... era a livelli, c'erano delle difficoltà, aveva anche del carattere, perché tu avevi uno scopo, c'era una storia, tu sei una navi, l'ultima, una delle ultime forze di difesa terrestri e devi sconfiggere gli alieni invasori. Hai delle zone di protezione che possono essere distrutti dai colpi dei nemici che scendono inesorabilmente, sempre più velocemente, mentre tu questa barriera si distruggi a furia di ricevere i vari colpi, e ugualmente tu se sparassi da sotto, diciamo, dal lato inferiore di queste barriere, le puoi distruggere anche tu. Era una delle tecniche che utilizzavano alcuni giocatori, creare, diciamo, una linea di tiro da dietro le barriere. Aveva la musica, aveva dei suoni, quindi era veramente un gioco che aveva molto carattere rispetto ad esempio Pong. E come Space Invaders ha poi portato a questo passaggio, cioè che Space Invaders porta a far vendere più Atari 2600. Perché Atari, oltre a sviluppare titoli, e ci saranno poi le prime software house, che saranno delle aziende che svilupperanno soltanto videogiochi, senza sviluppare, diciamo, dell'artware, inizieranno ad esserci le conversioni arcade dei giochi, cioè le conversioni dei giochi arcade per la casa. Quindi tu potevi giocare Space Invaders, molto gioco preferito, in sala giochi, oppure potevi giocarci a casa. Questa è una cosa che veramente non aveva senso. Vediamo se c'è, se ve lo trovo, se c'è uno... Oh, ecco, questo qui. Questa è la pubblicità che voglio farvi vedere. No, ecco, diciamo, l'altra grande cosa che fu un successo incredibile per l'Atari 2600 furono le pubblicità, i commercial, sicuramente sono stati i commercial e le pubblicità. Ora, parliamo della 32600 in sé. Le conversioni da sala giochi furono, come vi dicevo, sicuramente il fulcro principale della console. e il titolo più venduto sarà uno dei titoli della fine del ciclo di vita dell'Atari 2600. Io vi ho detto che verrà dismesso nel 92, ma in ogni caso l'Atari andrà a morire all'inizio degli anni 80 a causa di alcuni problemi di cui descriverò, che sono gli eventi, diciamo, del crash del mercato videoludico. e il titolo più venduto sarà Pac-Man, perché mentre le sale giochi appunto portavano sempre più titoli, Pac-Man sarà appunto uno dei titoli che più di tutto ha fatto esplodere, diciamo, la passione per gli arcade. e infatti Pac-Man sarà poi quello che verrà definito il gioco il gioco di quegli anni. Il gioco dei primi anni 80 sarà Pac-Man, come il gioco della fine degli anni 70, la Space Invaders, Pac-Man sarà il gioco dei primi anni 80. Infatti Pac-Man venderà 7 milioni di copie. e Pac-Man sarà sia il gioco di maggior successo commerciale dell'Atari 2600, ma sarà anche il gioco che rappresenterà il declino dell'Atari. Perché? Perché questo? L'Atari si vedrà avere una popolarità sempre crescente col passare degli anni, ma la seconda generazione videoludica inizierà ad avere quelli che sono i problemi che altri media avevano già affrontato e superato. Cioè quando un media o un'arte, se il cinema è l'ottava arte, il videogioco è la non-arte, palesemente, si inizierà ad affrontare due problemi principali. La popolarità, l'avanzamento tecnologico. Poiché l'Atari 2600 è comunque una console figlia del 77, è una console che aveva una RAM di 128 byte e dal punto di vista tecnico, se non vado errato, il suo sistema era un sistema abbastanza semplice, forse a livello di bit parleremo veramente di poca roba. Aveva un microprocessore 8 bit, ma era veramente comunque il resto delle caratteristiche tecniche. Non superiamo i 64 kilobyte di memoria e appunto 128 byte di RAM. La ROM invece era di 2 kilobyte, quindi i giochi si assestano su 2 kilobyte. Vi posso comunque dire che l'intera libreria di giochi dell'Atari 2600 si attesta come peso, se volete scaricarvelo, l'intera libreria di giochi dell'Atari 2600 pesa all'incirca un mega e due, un mega e tre, quindi questo è il peso. Quando una console come l'Atari, un media come il videogioco, inizia a diventare molto popolare, tutti vogliono entrare in questo mondo. C'è chi ci vuole entrare come sviluppatore di una console, c'è chi ci vuole entrare come uno sviluppatore di software. Quando moltissimi sviluppatori di software entrano in campo, inizia ad esserci... Ciao Hank, buongiorno! Si inizia ad affrontare un problema abbastanza cardine, e cioè... non c'era il copyright sui videogiochi. non c'era un modo per definire quali giochi fossero ufficiali per quella console, quindi passati diciamo a un sistema di... eh sì, eh sì, si giocherà anche a qualcosa di interessante. Quindi non c'era neanche un sistema da parte di Atari di dare quello che poi farà Nintendo con il seal of approval, quindi ci saranno... il mercato era pieno di titoli che erano... che uscivano da... eh... dall'Atari stessa o comunque da... eh... aziende sviluppatrici di un certo... di un certo livello, così come... eh... uscivano quelli che oggi chiameremo i giochi indie, no? titoli comunque che uscivano, gente sviluppava, mettevano su delle cartucce e finivano sul... sul mercato, oltre al fatto che inizieranno poi a uscire diverse... eh... diverse cartucce contraffatte. Esatto, Beat'em, Eat'em, ecco come Hank giustamente cita. Tra questi titoli andiamo a registrare anche i primi giochi erotici, giochi porno, eh... come... Beat'em, 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 Clusters Revenge, eh... roba di questo tipo, quindi per Atari 2600 sappiate che ci sono dei giochi porno. E questo, diciamo, già iniziava a creare un po' di difficoltà, sia da parte di Atari che non aveva un modo al momento di controllare questa cosa, non l'aveva neanche registrato inizialmente come un problema, ma dalla parte del consumatore inizia a esserci eh... palesemente della... della sfiducia. Poi ci sarà il... l'inizio della caduta di qualità su dei titoli fondamentali all'inizio degli anni degli anni 80 soprattutto. E cioè la... eh... come vi ho detto uno dei videogiochi più... eh... il più venduto all'interno della libreria dei giochi dell'Atari 2600 è stato Pac-Man. Pac-Man che è un incredibile successo in... dal punto di vista di... eh... appunto di... di... di gioco arcade e... eh... tra lo stupore di tutti uscirà anche per Atari 2600 ora io vi faccio vedere com'era Pac-Man degli anni 80 versione arcade e poi la sua versione 2000... per Atari 2600. Sarei tentati di farvela vedere giocata ma forse è meglio se ve la faccio vedere così. Meglio per per il mio cuore perché non... non reggerei. Allora... Dove? 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 Ecco qua. Facciamo così 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 e così. Marco si è già scaricato la libreria dei giochi porno? Sicuramente. Sicuramente si le è scaricati già tutti. Allora se faccio così questo è il boot dell'arcade guardate anche il livello grafico dei giochi arcade degli anni 80 perché è importante ricordare che l'Atari delle 77 questa grafica non ce l'avrà mai nella nella vita. Allora se questo stronzo la fa partire una partita è molto semplice capire cosa sia Pac-Man e perché sia stato poi diventerà un gioco così addicting per tutta la generazione di quel tempo Pac-Man è un gioco dove tu sei Pac-Man ha l'audio un pochino frastornante hai ragione hai ragionissimo gli devo dare una bella botta abbassarla perché effettivamente è abbastanza alto Pac-Man è un gioco che perché Pac-Man è alto perché l'altro video sarà più bassino come audio Pac-Man è un gioco molto semplice nella meccanica controlliamo Pac-Man questa pallina gialla che viene inseguito dai quattro fantasmi l'obiettivo è di completare il labirinto raccogliere tutti i pellet questi palline piccoline senza essere acchiappato dai fantasmi e in ogni livello nella parte centrale sotto a quella che è la gabbia dei fantasmi uscirà un frutto per ottenere dei punti extra le palline più grandi trasformano temporaneamente i fantasmi in una sua versione spaventata e quindi sarà possibile mangiarli per ottenere punti lo scopo è quello di superare livelli ah ok è quello metallizzato ristammato sì ho fatto vedere quella versione del vcs e la l'obiettivo appunto è di raggiungere l'high score quindi il miglior punteggio e anche completare i vari livelli come si incrementava la difficoltà all'interno di pacman col passare dei livelli i fantasmi iniziano a diventare più veloci e contemporaneamente la pallina che rende vulnerabili i fantasmi la durata della vulnerabilità diventerà sempre meno il periodo di vulnerabilità sarà sempre più basso e quindi sarà sempre più difficile poter mangiare i fantasmi poiché uno dei modi per ottenere velocemente e già dai primi livelli un punteggio molto alto era quello di riuscire ad attirare i fantasmi prendere una pallina di quelle grosse quindi per rendere vulnerabili i fantasmi e mangiare i quattro fantasmi entro la fine del periodo di vulnerabilità in questo modo si otteneva un punteggio molto alto considerate che ogni pallina piccola da 10 punti ogni pallina grande da 50 punti se si riusciva a prendere i quattro fantasmi insieme si arrivava ad avere 1600 punti soltanto dall'ultimo fantasma perché si faceva 200 punti primo fantasma 400 il secondo 800 il terzo 1600 il quarto ora prima di farvi vedere la versione Atari 2600 di questo titolo mi sembra giusto farvi vedere la pubblicità della Atari 2600 vi dicevo che i commercial in televisione erano l'arma principale dell'Atari in quegli anni Hank dimmi a livello di volumi con la pubblicità come va così la manteniamo anche per dopo per quando giocheremo 10 minuti a qualcosina help as soon as I eat that power block you guys are finished drop Atari Pac-Man into your Atari video computer system and you're playing the hottest games since Space Invaders Atari Pac-Man 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 Fever Pac-Man Fever It's driving me crazy Pac-Man Fever Pac-Man Fever I'm going out of my hate to eat and run Pac-Man fire Atari ora questo è il gameplay di Pac-Man su Atari 2600 ora capite bene giustamente lo hanno fatto vedere poco nello spot è vero è vero allora sono uscite diverse storie intorno a questa versione di Pac-Man molti ultimamente si dice che ci sia stato un errore a livello di azienda nel senso che sia stata distribuita sul mercato la una versione non completamente sviluppata del del gioco Pac-Man aveva un problema di performance su Atari 2600 essendo una console dalle caratteristiche comunque molto deboli per quello che era il tempo la gestione della grafica di Pac-Man degli elementi a schermo unita a i fantasmi metteva molto in difficoltà la console per quelle che erano le sue caratteristiche tecniche ma è anche vero che su Atari 2600 uscì anche Miss Pac-Man e Miss Pac-Man possiamo anche vederlo Miss Pac-Man sarà un qualcosa di totalmente diverso come potete vedere Miss Pac-Man è molto molto più gradevole alla vista e questo è sempre Atari 2600 questo è sempre Atari 2600 io non sono andato a prendere il il 7000 o il 5600 siamo sempre su Atari 2600 quindi diciamo che la teoria per cui l'Atari 2600 non avesse le capacità tecniche per reggere Pac-Man e che quindi quella che sia stata distribuita sia stata una versione non finita potrebbe essere oh le Night 630 grazie mille per il follo benvenuto benvenuto oh welcome benvenuto e la dicevamo il le capacità tecniche quindi dell'Atari 2600 potevano permettere di poter far girare un gioco come Pac-Man ma questo diciamo è la è il secondo strike dell'Atari 2600 quindi il primo strike era questa enorme distribuzione di titoli senza controllo il secondo è la appunto la l'uscita di un titolo come Pac-Man e il terzo è proprio che è stata proprio la la ciliegina sulla torta e va detto hi hi good morning good morning i'm sorry this streaming will be mainly in italian so feel free to stay if you want and during the week we do retro gameplay of the super ah lo so a posto allora senza che parlo in inglese appunto volevo dire il l'altra l'altro strike quello finale lo strike definitivo lo darà questa particolare evento datato 1982 1982 will come to life room room for a whole new generation experience the mystery wait what is it i don't know something's scary the wonder what's happening the call ed phone home that started it all with never before seen footage enhanced special effects and an all new digitally remastered soundtrack the extraordinary 20th anniversary edition it the extraterrestrial it l'extraterrestre esce nelle sale all'inizio degli anni 80 nell'82 per la precisione ed è un successo clamoroso clamoroso quando et l'extraterrestre esce nelle sale un successo clamoroso e atari coglie una grandissima opportunità nel trasformare et l'extraterrestre in un videogioco quindi vorrei forse ve lo vorrei far giocare io però no voi dovete vederlo et l'extraterrestre ecco qui et l'extraterrestre uscito nel 1982 quindi nello stesso anno di uscito del film su atari 2600 l'extraterrestre 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 anche vissuto l'extraterrestre 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 2900 Ora, se la vostra domanda è cosa cazzo sto vedendo è una reazione coerente Questo videogioco noi siamo IT dobbiamo trovare pezzi del telefono ma le istruzioni su schermo e il gameplay stesso non aiutano per niente il videogiocatore avete visto che ci sono dei buchi all'interno della mappa dove ti salta dentro e trova i pezzi del telefono e poi risale e fuoriesce dal buco il giocatore che vi ho fatto vedere è uno molto capace a giocare a questo titolo poiché quando tu esci dal buco se non sei preciso nel piazzare T proprio deve essere un atterraggio pixel perfect si ricade nel buco e ti sarà un flop clamoroso di videogiochi che resteranno invenduti una grandissima quantità di videogiochi resteranno invenduti e sarà per Atari sarà un colpo tremendo talmente forte che Atari dovrà sospendere tutti i progetti laterali e paralleli che stava mantenendo Atari negli anni 80 era forte ma non forte normale era forte forte Atari tirava su tornei incredibili noi non riusciremo a giocare a qualcosa in questa live quindi diciamo nella prossima live nella live di sabato prossimo giocheremo a qualcosa dell'Atari parleremo degli altri player in campo durante la seconda generazione videoludica e quello che ha portato al market crash del 1983 questo che vi ho fatto vedere è il terzo strike Atari non se riprenderà mai totalmente da questa botta con quello che saranno anche i suoi tentativi successivi saranno dei flop clamorosi come l'Atari 7800 con i suoi controller non funzionanti l'Atari Jaguar sarà sarà qualcosa di obrobrioso per le console a 32 bit nel periodo delle console perdono a 16 bit e ora lo stavo a 140 euro su ebay certo c'era anche e anche qui c'è una storia fantasiosa molto divertente che le cartucce le cartucce invendute le copie invendute di E.T. per Atari di 2600 fossero state portate in Arizona e sotterrate nel deserto l'Angry Video Game Nerd su questo videogioco sulla recensione legata a questo videogioco e sulla storia appunto delle cartucce nascoste nel deserto ci farà un film l'Angry Video Game Nerd The Movie parla di questo per farvi capire quale scandalo sia stato negli anni Ottante negli anni a seguire c'è un evento di cui io vi voglio parlare e vediamo se c'è un un commercial di questo perché ve lo voglio far vedere no non c'è vi faccio vedere soltanto se lo trovo una pubblicità sempre degli anni Ottanta dell'Atari e poi vi voglio parlare di questa serie di giochi che è una su cui voglio fare un focus perché non è molto conosciuta però intanto vi faccio vedere Only Atari makes the world's most popular home video games The Only Space Invaders The Only Asteroids The Only Pac-Man The Only Missile Command and soon The Only Defender and the only way you can play any of them is on a home video system made by Atari ecco così sono anche riusciti a farvi sentire una pubblicità con lo slogan quindi come potete vedere ah poi Hank tu dici che hai questo Atari qui no? hai questa versione di Atari giusto? beh poi mi scriverai in chat in questo commercial si sono visti i principali i giochi più famosi della dell'Atari e anche quello che è stato poi uno slogan per tanti anni che si utilizzerà all'interno dei commercial dell'Atari cioè have you played Atari today? quindi non si diceva io come si dirà poi io gioco al NES gioco ai videogiochi prima si diceva facciamoci una partita all'Atari e Atari per fidelizzare ancora di più il il pubblico ecco qua quindi c'è qualcosa sì perfetto per andare ancora di più in per fidelizzare ancora di più il il pubblico iniziò a introdurre una serie di giochi chiamati Sword Quest ecco qua prendiamo questo queste due immagini che voglio farvi farvi vedere Sword Quest sono una serie di di giochi dovrebbero essere quattro titoli Earthworld Waterworld Fireworld e Airworld e ognuno di questi doveva essere era poi legato un un torneo quindi c'era un torneo che era proprio legato acquistando acquistando il gioco qual era il torneo in questione allora ogni titolo ogni titolo di Sword Quest usciva con qualcosa del genere quindi avevamo la cartuccia il manuale e poi un un comic book questo è un fumetto un fumetto fatto dalla Dark Horse cioè parliamo di di roba grossa questo è uno di quei famosi giochi dell'Atari dove hai bisogno del manuale perché altrimenti non capisci quello che devi fare bisogna accedere alle stanze le stanze sono organizzate ogni gioco seguendo un ordine particolare Earthworld è stato il primo della serie Sword Quest che è uscito e la sua peculiarità era che le stanze fossero delle stanze circolari basate sullo zodiaco all'interno di quelle stanze dovevi poi sfruttando anche il fumetto e il manuale utilizzare un determinato oggetto se utilizzavi quell'oggetto partiva un minigioco e quel minigioco ti dava un suggerimento il suggerimento era relativo al fumetto bisognava andare in quella pagina a leggere in quella vignetta in quella particolare vignetta magari c'era un indizio quell'indizio dovevi appuntartelo da qualche parte e così completavi il gioco completato il gioco avevi una serie di indizi c'era poi un indizio all'interno del manuale non so se nessuno ha mai più fatto una cosa del genere esatto e con l'indizio poi trovavi all'interno del manuale mandavi le tue risposte alla Atari e se eri uno dei primi 50 se non vado errato si partecipava poi al torneo presso la serie della Atari di quel determinato capitolo di Sword Quest e chi risolveva il nuovo enigma perché era una versione di Earthworld con difficoltà maggiorata con degli indizi quindi enigmi differenti si otteneva poi il premio in palio e io il premio ve lo devo far vedere per forza allora i premi erano quattro perché si pensava all'uscita di quattro titoli il calice ragazzi questo era un calice oro con rubini zaffiri con pietre preziose un talismano una pietra filosofale una corona e i vincitori dei quattro premi quindi dei quattro giochi di Earthworld Waterworld Fireworld e Airworld si sarebbero poi affrontati nuovamente in una grande sfida finale per l'ottenimento della spada questa cosa non ha senso questa cosa non ha senso il talismano e la pietra e il calice verranno giocati quindi tornei di Earthworld e di Waterworld si giocheranno abbiamo una minuscola immagine forse ne posso trovare una migliore vediamo se ne posso trovare una migliore di queste di questa immagine anche questa qua è no ma questa non è piccolina però perché me la devi far vedere in piccolo bastardi allora facciamo così uno e due ecco facciamo così e infatti abbiamo qui il vincitore di Earthworld con il talismano potete vedere quello che vedete qui a questo semicerchio è il è appunto la metà delle stanze del gioco che appunto erano basate sullo zodiaco e quest'altro invece è il vincitore di Waterworld che invece utilizzava il le chakra rooms quindi era un gioco sviluppato più sulla verticale e lì invece i minigiochi erano appunto legati legati all'acqua purtroppo appunto il crash del mercato dell'83 e conseguentemente diciamo i tre strike dell'Atari di cui abbiamo parlato porteranno in primis allo stop dello sviluppo di Fireworld infatti di Fireworld si può trovare da qualche parte una una versione non finita ma di Fireworld il progetto non 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 vedrà mai diciamo la la sua nascita insomma Fireworld è proprio come il nome è Aria resterà resterà Aria si dice perché poi quello che i videogiocatori hanno cercato poi di di portare avanti era la è stato diciamo il voler rimettere in auge questo questo torneo poiché la gente vuole sapere dove è la corona dove è la spada dove è la pietra filosofale si dice che poiché la Tari poi fu fu venduta a un individuo di cui ora sono sincero non ricordo il nome devo andarmelo a cercare se mi date un secondo vi do questa informazione ma a colpa che non ho non ho mantenuto l'informazione ma fu venduta a eh non ricordo Jack Tremiel che era un imprenditore statunitense ci tengo a precisare questa cosa che sopravvissuto dell'olocausto visto che oggi è la giornata della memoria e si dice che Tremiel a casa sua abbia la spada abbia o avesse perché non so se è ancora vivo non è è venuto a mancare nel 2012 quindi no che a casa sua avesse la corona e la spada io voglio mettervi in contrapposizione queste due cose cioè noi da una parte abbiamo un concorso a premi che era circa 180 190 mila dollari per dei videogiochi dell'Atari e dall'altra abbiamo appunto questi titoli che erano di una semplicità aberrante perché erano veramente dei giochi molto semplici anzi settimana prossima giocheremo a a qualcosa dell'Atari anzi voglio un attimino vedere se nella mia collezione c'ho qualcosina di sword quest o anche firewood ragazzi o anche ma io voglio provare a farne partire uno voglio provare a farvelo vedere passiamo un attimo al gaming questo è bellissimo quando non c'è la webcam faccio uso questa immaginetta perché sono un coglione e ok no facciamo che non voglio fare uno screen capture voglio fare un capture di questo ok ecco vediamoci un po' questo sword quest ecco io non so dove sono io non so cosa ho appena fatto questo questo dovrebbe essere il mio inventario e questo dovrebbe essere gli oggetti che ho equipaggiati e quelli che erano equipaggiati quindi se io ad esempio faccio premo questo lo poso e prendiamo questo non posso prendiamo questo cambiamo stanza non posso andare di qua posso andare su signori la gente si è capata a giocare questo titolo per vincere una corona io non ho il manuale non ho la benché minima idea di che cazzo debba fare e questa erano gli anni settanta e gli anni ottanta benissimo e con questa anche la live di oggi ce l'abbiamo fatta è finita ringrazio le night 630 per il follow io spero che questa live vi sia vi sia piaciuta potete recuperare il vod sia su twitch qui a breve sia sul mio canale youtube ringrazio anche cerchietto e hank per essere per essere passati abbiamo parlato della seconda della seconda generazione videoludica di pong e della prima quindi abbiamo visto gli anni settanta la prossima live parleremo delle altre console e degli home computer che sono stati comunque dei protagonisti della di questa generazione videoludica non quanto la l'atari che comunque ha meritato un focus specifico e giocheremo a qualcosa dell'atari e magari anche a qualcosa del del commodore e restati tra virgolette sintonizzati perché poi si parla della terza generazione videoludica si parlerà di 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 NES e di Master System e inizieremo a vedere roba veramente figa roba veramente tosta grazie a tutti buon sabato buon pranzo per chi va a mangiare buon weekend da Maserati qui è tutto come citando frat Maraichux la live è finita andata a fanculo grazie a tutti grazie a tutti